Primo rapporto turismo e filiera casearia, un nuovo strumento utile per analizzare l'incidenza della filiera casearia sul benessere delle comunità locali e dei territori. È un comparto che non ancora aveva ricevuto adeguata attenzione e con questo dossier si auspica che si possano generare nuove opportunità di crescita e sostenibilità per i territori nei quali la produzione dei formaggi ha particolare incidenza e rilevanza. È stato progettato da Roberta Garibaldi, docente dell'Università di Bergamo, esperta di enogastronomia e del turismo che da questa particolare offerta si genera. Questo lavoro di analisi della filiera casearia segue altri lavori dedicati sia al complesso dell'offerta enogastronomica che a quello dedicato in particolare all'olio extravergine d'oliva. Nel lavoro dedicato alla comprensione della filiera lattiero casearia, l'autrice rileva che il 32,7% dei turisti italiani dichiara di aver partecipato ad almeno un'esperienza a tema formaggio nel corso dei viaggi degli ultimi tre anni, con visite a caseifici, eventi e festival, itinerari tematici ed anche esperienze dedicate nei ristoranti. La docente dell'Università di Bergamo nel rapporto ha rilevato anche quali sono le nuove esigenze degli appassionati e su questa base ha definito le strategie della migliore offerta turistica, nei quali viene evidenziata l'importanza di progetti di rete.